Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart e in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Scandici in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove a causa della viabilità esterna che non riceve, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. In FEPILI invece si ricorda che fino al 28 febbraio per lavori di alleggermente regolazione idraulica in vigore un restringimento di carreggiata tra Ponte dell'Este, Ponte dell'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze e possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e San Casciano Sud con chiusura dello svincolo di San Casciano Nord in entrata in direzione Siena. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!